Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento con i giornali, la lettura dei quotidiani, l'appuntamento del mattino delle 7.30 con occhio ai giornali puntuali come sempre, subito il santo del giorno, vediamolo San Costantino, il sole è sorto alle 6.27, tramonterà 18.09, il tempo, il tempo è ecco cosa ci attende per la giornata di oggi, vedete una giornata all'insegna della variabilità anche se poi il cattivo tempo arriverà domani o dopo domani insomma. Questa è la temperatura invece attuale alle 7.30 del mattino, 3 gradi e mezzo, la protezione civile oggi prevede cielo parzialmente nuvoloso, aumento della copertura nel corso della serata, temperature in particolare aumento nei valori massimi per domani. Giovedì 12 marzo ecco la variabilità in particolare nel centro sud della regione con precipitazioni rovescio temporali sparsi di notte, nel corso della mattinata permarranno locali precipitazioni nel settore meridionale, specie in montagna, limite delle nevicate attorno ai 700-800 metri, le temperature sono in diminuzione. Per quanto riguarda venerdì 13 marzo avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente al ridosso dei rilievi, le temperature in lieve aumento. Per i prossimi giorni avremo tempo stabile sulle Marche anche nella giornata di sabato, previsto un lieve peggioramento delle condizioni meteo tra le giornate di domenica e lunedì quando saranno possibili delle precipitazioni. Andiamo sul messaggero, cominciamo dal messaggero questa mattina in apertura sulla pagina di Pesaro, la notte rosa, la notte rosa che contagia tutti, è la proposta che arriva da Rimini, dal sindaco di Rimini, accolta dal sindaco di Pesaro ma che piace anche a quello di Fano. Seri dice ci sono grandi potenzialità mentre quello di Pesaro Ricci lancia un sondaggio sui social network, offriamo alla Romagna la nostra cultura e la nostra bellezza. Centropagina, stagione a rischio, i bagnini chiedono più sabbia e più scogli. La lettera al governatore della regione firmata dal Comune, dalla CNA e dalla Confartigenato. Mentre sulla pagina di Fano, lo vedremo tra poco, si parla della lunga serie di blackout per il vento, l'onda lunga, dunque dei disagi provocati dalla bora, è stata avvertita dall'ora di cena in poi quando è iniziato uno sciame di blackout causato dall'eccesso di salinità. Poi la cronaca, indagine della Guardia di Finanza, funzionario accusato di concussione, eseguita una misura cautelare nei confronti di un impiegato dell'Agenzia delle Entrate. L'impiegato aveva abusato della sua qualifica al fine di ottenere vantaggi economici. È un dipendente dell'Agenzia delle Entrate. Andiamo allora a vedere la pagina interna del messaggero, la notte rosa, contagia anche Fano, questo è il titolo. L'invito di Rimini accolto da Pesaro Gabice Gradara potrebbe inoltre coinvolgere anche la tavuglia di Valentino Rossi. Ricci lancia un sondaggio e dice, un sondaggio di social network, riscuote anche del successo, mentre il suo collega di Fano, Massimo Seri, dice, ha un circuito dalle grandi potenzialità. Poi condannata la banda delle biciclette, aveva commesso furti in serie 8 dei 12 mezzi a pedali rubati, sono infatti ritornati legittimi i proprietari. Ieri i due trafficanti delle due ruote, sono due rumeni pizzicati con le mani nel sacco dagli uomini della volante di Pesaro lo scorso agosto, sono stati condannati a due anni e otto mesi ciascuno di reclusione. Poi come abbiamo visto anche nel telegiornale che ha seguito il nostro Tg ieri, o che la notizia, ci sono anche buone notizie dove i proprietari quando vengono ritrovate le biciclette, si ritrovano la bicicletta di nuovo in casa e quindi questo è una buona notizia, insomma, quando ritrovano le forze dell'ordine delle biciclette che poi vengono restituite. Poi il ROF al vecchio Palace, Mariotti, un sogno realizzato. Il sovrintendente del Rossini Opera Festival entusiasta per il recupero dell'hangar, dice torneremo a casa. Abusava del suo ruolo nei guai un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, minacciava i proprietari di ispezioni nei locali per ottenere dei vantaggi o non pagare il conto, è accusato di concussione. L'uomo avrebbe anche tentato di intimorire i militari della Guardia di Finanza. A Marotta, Ferrovia, battaglia sul futuro sottopasso, l'opposizione attacca la giunta Cavallo, il Cavallo è il sindaco di Mondolfo, mentre alle 16.30 viene segnalato qui un appuntamento a Fano, una tavola rotonda sulla famiglia, ve lo segnaliamo anche noi alle 16.30 nell'aula magna dell'Istituto Battisti di Fano per iniziativa del Circolo Bianchini. La pagina di Fano del Messaggero, Rifugiati, il Prefetto, attenti alle strumentalizzazioni, anche il Comune ha partecipato all'incontro pesarese, occorre instaurare un clima di accoglienza. A centro pagina, lunga serie di blackout, colpa del troppo vento segnalati in tutta la città e anche a Pesaro, a provocare le continue interruzioni, l'eccessiva salinità delle linee, dell'elettricità. Al liceo Nolfi partono invece i giorni dell'autogestione, domani, venerdì e sabato al Nolfi di Fano si terrà come ogni anno l'autogestione, un periodo cioè di tre giorni complessivi dove ogni studente o professore interessato potrà avviare una sua attività illustrando quelle che sono le sue tematiche scelte. A Lucrezia la banda del rame ruba un furgone, il proprietario lancia un appello. E ancora sopra regionali a Minardi il primo round nel Partito Democratico, ma la decisione finale spetterà al provinciale. Dunque il PD fanese verso le elezioni regionali, a Renato Claudio Minardi va questo primo round delle consultazioni sui candidati consiglieri, solo indicativo il fatto che abbia ottenuto il maggior numero di consensi, l'altro ieri sera durante la prima di tre assemblee riservate ai tesserati perché la decisione finale, come dicevo, spetterà alla federazione provinciale. Andiamo adesso sulla pagina del resto del carino di Fano, il centro in evidenza, la Pasqua amara dei bagnini senza spiaggia, maltempo ed erosione annunciano un'apertura di stagione molto complicata. In spiaggia si respira preoccupazione mista a Salsedine, a meno di un mese dalla Pasqua. Infatti sono giorni duri questi per i bagnini fanesi alle prese con la programmazione della stagione turistica che è ormai alle porte. Mentre sul tema del turismo, per gli amici gemellati di Reichstag c'è questa novità, Fano Card, che è una tessera riservata per tutto il 2015 appunto a coloro che risiedono nella città tedesca gemellata con Fano. Questa card, questa tessera darà diritto ad uno sconto del 10% in tutti gli esercizi e le strutture aderenti, una opportunità raccolta da un centinaio di operatori fanesi, soprattutto albergatori, campeggiatori e concessionari di spiaggia. Più in alto il Presidente del Consorzio di Marotta dice che il nostro obiettivo è l'apertura per il 25 aprile, sempre per quanto riguarda la nuova stagione balneare che, come dicevamo, è alle porte. Sparisce la Cassa, un fanese sotto processo, è l'ex Presidente di una Onlus che addestra i cani per il soccorso in acqua. Poi ancora Prodis Sport allagato, titolare commosso, tantissimi gli aiuti ricevuti e poi si parla di ambiente sul quotidiano Resto del Calino di Fano. Possono partecipare i giovani tra i 18 e 35 anni, c'è questo bando per riqualificare gli spazi degradati in disuso e c'è questo concorso del quale appunto parla il Resto del Calino questa mattina. Poi ancora a San Lorenzo in campo, ricorderete la vicenda di questo quadro che sta dietro alla scrivania del Sindaco del Paese, il Capo Littorio c'è, dice ma il fascio no, il Sindaco lascia lo stemma lidovelo, tolgo se me lo chiede il Prefetto. Poi a Cartoceto domenica ancora sfilate per quanto riguarda i carri e il Carnevale di Mezza Quaresima, sotto ripristinare la linea Pergola-Fabriano, Ninel Donini dopo la sospensione per uno smottamento. Ancora sui rifugiati troppa mistificazione, Andrea Zucchi della sinistra replica le accuse sui tirocini, nessuna concorrenza, i fondi sono quelli previsti dal Ministero, non si toglie nulla ai disoccupati italiani. E ancora Ricci, sì alla notte rosa, ma con tutte le nostre peculiarità, cultura, ambiente, anche il fans club di Valentino Rossi. Il Sindaco di Pesaro si tratta, dice, di una sfida da giocare nell'ambito di un evento con promozione internazionale, sarà una collaborazione positiva, dice Matteo Ricci. E Tavuglia, la città di Valentino Rossi è da corteggiare, sarebbe interessante coinvolgere anche i tifosi di Vale. Appuntamento a luglio. Bagnini disperati dopo la mareggiata, la spiaggia non c'è più, inviata una lettera in regione, immediati interventi per ripascimenti di sabbia e di scogliere. Poi, dalla pagina di Fano, le Acli. Acli, i circoli sono la nostra forza. Il Consiglio al centro diocesano di Fano, la relazione di Tomassini, che è questo signore che vedete nella fotografia, sono 50, ben 50, i circoli con oltre 6.000 soci su tutto il territorio provinciale, che costituiscono la realtà delle Acli che al centro pastorale diocesano di Fano hanno ottenuto il loro consiglio provinciale aperto ai presidenti dei circoli. Candidati alle regionali, consiglieri PD, Minardi va, ma Perini e Fulvi danno battaglia. Sono i giorni delle assemblee, domenica un'altra giornata molto calda. Chiudiamo con il Corriere Adriatico. La pagina di Fano, 60 direttori da azzerare. La richiesta del sindacato alla giunta di Seri. Ancora in ritardo l'informatizzazione degli uffici. Priorità anche alla formazione professionale, mentre è da rivedere la valutazione dei lavoratori. Sotto il trentennale occasione di scambi economici, la città dal 13 al 16 maggio celebrerà il gemellaggio con Rastat. Pronta una Fano card con sconti del 10%. Al Carnevale l'Unione fa la forza. Interrogazione di Fano 5 Stelle, Marcheggiani, sulle idee di Jox. Confronto utile, polemiche. Polemica da ricomporre. Il maestro carrista Giovanni Sorcinelli, autore di un progetto di rilancio del Carnevale e l'ultimo carro da lui realizzato, quello di Lupo Alberto, dell'edizione del 2014. Giovanni Sorcinelli, appunto in arte Jox. Poi chiesta una giuria tecnica e qualificata per selezionare i migliori bozzetti da finanziarie. Cinema ed eventi nel borgo Cavour senza auto. Alcuni esercenti vogliono la chiusura del traffico in alcune giornate per vivacizzare questa parte del centro storico, il piano della viabilità di Michele Silvestri, ex assessore della Giunta Guzzi, criticato anche per il carico veicolare su via San Paterniano. Tre concorsi sul riuso ambientale ed urbano, riservati ai giovani dai 18 e 35 anni per cortometraggi, fumetti e foto. La festa finale si terrà poi al pincio. Quest'anno Avis celebra i 65 anni di vita. a Fano anche un cordone umano per la donazione del sangue. E ancora diventeremo la capitale dei motori. Da Pergola, Baldelli annuncia il motoraduno rellistico. Parteciperanno 130 piloti provenienti da tutto il mondo. Il percorso si snoda lungo 120 km di strade bianche, toccando l'intero territorio comunale. Poi più sotto, da San Lorenzo in campo, 11 vittorie in 11 partite. Volley da record. A Saltara, il Comune di Saltara aderisce alla CEV, risparmio ed efficienza con il Consorzio Energetico Veneto. E ancora, da Senigallia per chiudere, mercato, pulizia a carico degli ambulanti. Il Comune non ha soldi per gli straordinari, ma noi siamo stanchi di essere spremuti. È tutto. Si chiude qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Buona giornata. A domani.